Shopping in the city, in giro per New York con Sarah Jessica Parker Oh this you crazy mother! Parker. Lo shopping con car reparte dalle scarpe. . È perché una volta lì spero di potermi rendere utile. L'iniziativa di iRimb, il sito di affetto di appartamenti tra privati, è nata per far crescere l'utilizzo dell'app tra gli utenti. . Al costo di 400 dollari, i fortunati vincitori dei quattro posti disponibili, godranno della compagnia e della consulenza della Parker e potranno portarsi a casa un paio di scarpi della collezione firmata proprio dall'attrice di Sex and the City. . Dopo lo shopping, si andrà ad assistere a uno spettacolo del New York Ballet, il balletto della città nel cui comitato amministrativo vi è proprio Sarah Jessica Parker e a cui saranno devoluti i proventi dell'iniziativa. . Tra un delizioso spuntino a base di frozen yogurt, Sarah Jessica converserà con i fortunati ammiratori, a cui consiglia di indossare scarpe comode per il giro della città. . Argomento delle chiacchierate sarà la grande mela i luoghi in cui è stata girata la serie Sex and the City e, naturalmente, vestiti, borse e scarpe. L'attrice ha dichiarato di voler offrire un tour che dia l'idea dell'identità vario-pinta di New York. . Attrice e imprenditrice di successo. Sarah Jessica Parker ormai non è solo un'attrice ma una donna d'affari a tutto tondo, produttrice, imprenditrice e stilista. . Diventata famosa in tutto il mondo per il ruolo di Carrie Bradshaw nella fortunata serie televisiva degli anni 90, l'anno scorso la Parker ha deciso di lanciarsi nella moda disegnando personalmente una sua linea di calzature. . . Non poteva che essere così, vista la passione del suo personaggio per le scarpe, soprattutto quelle di Manolo Blanick. L'ultima collezione sarà messa in vendita on-line, grazie alla collaborazione con Amazon. . . Tutti coloro che acquisteranno uno dei modelli della collezione, a scelta tra scarpe con tacco altissimo o dei più comodi stivali bassi, riceveranno un bellissimo sacchetto portascarpe firmato dall'attrice. . Intanto, si inseguono i rumor su una possibile riunione delle quattro ragazze più glamour di Manhattan, nel terzo film tratto dalla serie Sex and the City. . . Finora sono solo supposizioni ma da alcuni indizi lanciati sui social da due delle protagoniste, Miranda e Charlotte, sembra proprio che il film si farà. . Intanto, in bocca al lupo ai quattro fortunati che potranno vivere l'esperienza di passare una giornata in giro per New York con Carrie Bradshaw. . 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 Ciao